Bentrovati a un nuovo appuntamento con le previsioni nel dettaglio in provincia di Cosenza da Andrea Raggini di www.meteogiuliaci.it Il weekend è iniziato con il sole in provincia di Cosenza ma la situazione peggiorerà fortemente tra la sera e la notte per l'arrivo di una forte perturbazione che decreterà due giorni di intenso maltempo in Calabria. Infatti tra la sera e la notte arriverà questa perturbazione che porterà da prima pioggia moderata e sparse ma attenzione perché tra la mattina e la prima metà del pomeriggio di domenica le precipitazioni potrebbero essere intense sulla provincia di Cosenza e a tratti anche sotto forma di temporali precipitazioni che potrebbero ingrossare fiumi e torrenti e provocare smottamenti quindi la situazione andrà seguita perché potrebbe risultare delicata proprio nella giornata di domenica la ventilazione risulterà moderata a tratti forti, il mare diventerà molto mosso anche la giornata di lunedì la nuova settimana inizierà con cieli grigi e precipitazioni a tratti moderate che tenderanno poi a lasciare la provincia di Cosenza entro la serata le temperature che potrebbero arrivare fino a 19-20 gradi sabato scenderanno intorno ai 12-14 gradi tra domenica e lunedì. Dalla giornata di martedì è previsto un ritorno del bel tempo su quasi tutta la Calabria per quanto riguarda i dettagli vi rimando al sito www.meteoggiuliaci.it da Andrea Raggini è tutto, buon weekend!